Ritorniamo insieme e dopo i libri della professoressa Carla Bonfitto, i libri che ci condivide tutti i giovedì di settimana in settimana con le sue belle riflessioni. Ci dedichiamo un po' di tempo libero, è il caso di dire, in apertura vi anticipavo che oggi avremo parlato anche di tennis tavolo, di ping pong, lo faremo con Giuseppe Dutti, presidente dell'Associazione Sportiva Direttantistica Tennis Tavolo di Foggia, Luigi Siani. Appena lo vedo nel maxi schermo alla mia sinistra avrò modo ovviamente di salutarlo per dargli la possibilità poi di parlare di questo sport che sta prendendo sempre più piede nel nostro paese e che evidentemente ha, come dire, tanti vantaggi, diciamo così, perché io non sono un grande giocatore di ping pong ma quando mi sono approcciato a questo sport ho capito che in realtà ti restituisce una certa freddezza in un certo senso, ti spinge all'autocontrollo dei tuoi movimenti, delle tue reazioni ed è sfidante perché è una partita che giochi innanzitutto contro te stesso, Maria Pia starei quasi per dire. E poi contro l'avversario che hai di fronte. Giuseppe ci sei, sei collegato? Ecco, sì sì, buongiorno, buongiorno a tutti da Foggia, buongiorno. Buongiorno a te, ho avuto modo già di presentarti, non so se hai ascoltato la mia introduzione, se non eri ancora collegato, non fa niente, non importa. Ho speso delle parole molto belle per questa disciplina ma adesso ci sei tu che in qualità di presidente dell'Associazione Sportiva Direttantistica Luigi Siani di Foggia ci racconterai, mentre vedremo delle immagini in diretta, mentre chiacchieriamo, quello che succede a Foggia intorno a questo sport che è sempre più praticato e di cui vale la pena appunto parlarne. A te. Guarda, vorrei anche allargare l'orizzonte perché essendo anche il delegato provinciale della federazione, mi piace dire che questa attività la stiamo proponendo anche nelle varie province della provincia di Foggia, che è la più estesa e che quindi abbiamo un terreno molto fertile, serve solamente una grande forza per poter raggiungere tutti. Quindi siamo partiti con Foggia dove praticamente abbiamo una sede attualmente presso la paestra Masi, dove facciamo attività promozionale attraverso una scuola di tennis tavolo, riconosciuta dalla federazione con nuovi tecnici con la quale lavoriamo soprattutto con gli agonisti promozionali. In queste attività naturalmente si parte dei colpi base fino a portare i ragazzi a livello agonistico e fino a portare proprio i tornei dove si ha la massima espressione dell'attività pongistica. Naturalmente la nostra associazione sia nel tempo strutturata, siamo partiti, mi piace dire che siamo un'associazione. L'associazione per noi si intende un'associazione che non solo fa attività sportiva, ma lavora nel sociale, lavora con sport e salute, con il CONI, con il CIP. Quindi diciamo proprio veramente a 360 gradi stiamo cercando di promuovere questa attività nel territorio da 13 anni, perché ci siamo costituiti 11 anni fa, scusate, al 2013. Questo naturalmente comporta un enorme sforzo che però può essere man mano raggiunto, può essere man mano fattibile quando più persone riusciamo a formare come tecnici in modo da poterli mandare nelle varie scuole che con i progetti federali o con i progetti di sport e salute o con i progetti CIP di sport e disabilità possono avere la conoscenza di questo sport e poi a chi piace si può proporre nelle varie zone. La cosa ultima che stiamo facendo in questa struttura che ci stiamo costituendo è organizzare tornei. L'organizzazione del torneo significa portare a Foggia persone più brave della provincia a giocare, quindi a vedere il livello conistico che si può raggiungere a più alte categorie, ma soprattutto significa portare anche il turismo nella zona. Si hanno concentramenti di 100-200 atleti con i propri tecnici, con le proprie famiglie, quindi si crea proprio un circuito turistico, sportivo, culturale che è veramente una nicchia che anche ad esempio per voi che siete lì a San Giovanni, abbinare, che ne so, uno sport, quindi un'attività turistico, sportiva e religiosa potrebbe essere un'ottima strada per poter entrare nel vostro territorio. Ci lavoreremo, ci lavoreremo intanto, mentre tu non eri ancora collegato, parlavo di tennis tavolo dicendo che quelle, ahimè, poche volte che ci ho giocato, però l'ho apprezzato molto come sport perché ti spinge innanzitutto a sfidare te stesso, a controllare, a misurare i tuoi gesti, in maniera particolare ho utilizzato un termine, ossia la freddezza, ti invita a non essere più di tanto istintivo, ma ecco ad approcciarti al gioco e a relazionarti con il tuo avversario con grande lucidità mentale, condividi? Certo, e guarda è fondamentale, diciamo, questo sport individuale, considerato anche la velocità con cui viaggia la pallina, in quei pochi attimi bisogna capire la pallina dove ti arriva, devi capire dove vuoi indirizzarla per mettere in difficoltà l'avversario in pochi istanti, quindi ci vuole una massima concentrazione e una massima capacità di reazione al colpo imprevisto magari del tuo avversario, quindi è veramente un ottimo esercizio, è un ottimo esercizio di concentrazione, io lo consiglio molto ai ragazzi perché veramente sapranno sfruttare nel minor tempo possibile le loro capacità in qualsiasi ambito. Bello, sì, bella questa attitudine, uno sport che si può praticare a tutte le età, raccontaci Giuseppe, in conclusione di chiacchierata, tu come ti sei avvicinato a questo sport? Allora, io ho iniziato proprio quando ero ragazzo, diciamo, proprio al geometra, dove attualmente abbiamo la sede, al geometra di Foggia, al Masi, dove c'era un professore appassionato che comprò dei tavoli, quindi iniziamo a fare i primi tornei. Poi sono stato militare e quindi si facevano dei tornei interforze, dove era possibile partecipare a livello nazionale, ho scoperto il mondo a livello agonistico perché poi veniva sempre abbinato ai tornei assoluti nazionali, quindi si vedevano i grandi campioni e quel mondo mi ha affascinato al punto tale che nuove ragazzi di Foggia, a un certo punto abbiamo deciso, costituiamo un'associazione a Foggia e portiamo avanti questo sport. Bene, complimenti, complimenti davvero Giuseppe, anche perché oggi più che mai è importante coinvolgere soprattutto le nuove generazioni a praticare sport, che poi è anche non solo l'arte dell'allenamento del corpo e della mente, ma è anche una meravigliosa occasione di confronto, di crescita, di relazione, per cui vi auguriamo ogni bene di continuare a costruire a Foggia e in provincia questa meravigliosa disciplina che può portare tanto bene. Maria Pia, tu hai mai giocato a ping pong? Sì, sì, stavo proprio pensando che mi rimanda alla preadolescenza addirittura, era divertente d'estate, ma non ero molto brava. I miei fratelli maggiori invece erano dei campioni nel circondario, diciamo, per cui quando ammettevano noi più piccoli e piccole era una festa, però io considero, ancora dico ping pong un po' all'antica, adesso mi correggerò per carità, però quelle palline così leggere le adoravo, le potevamo maneggiare, quelle avevamo abbastanza, come dire, possibilità di vederle da vicino. Invece per le racchette c'era molta distanza di sicurezza, avevano paura che le rovinassimo, poi non mi è più capitato. Bene, chissà che non sia giunto il momento di rispolverare questo bellissimo sport. Giuseppe, noi ti ringraziamo per essere stati con noi, invitiamo quanti ci seguono dalla provincia di Foggia a cercarvi sui social, su internet e magari a raggiungervi per aumentare il numero degli appassionati di questa bellissima disciplina. Dove vi possiamo trovare nel mondo di internet e della rete? Su internet ci trovate, naturalmente, sui social e Instagram, sulla pagina Facebook, lì siamo molto più, siamo presenti, insomma. Naturalmente su Google basta chattare la nostra SD, tenis tavolo Foggia, Luigi Siani, trovate un po' la nostra storia con le varie attività che abbiamo svolto. Non mancheremo, non mancheremo e appena sarò su Foggia cercherò di venire munito di racchetta. Ti aspettiamo veramente volentieri. Così ci scambiamo anche due palleggi. Grazie, grazie di cuore Giuseppe e buon lavoro a voi. Grazie, arrivederci, grazie.